La Regione Marche, attraverso l'assessore Francesco Baldelli, ha presentato ad Orciano, nel municipio di Terre Roveresche, i vincitori dei bandi per contributi al miglioramento della rete stradale, di marciapiedi, di ciclabili o sottopassi nelle province di Pesaro Urbino e Ancona. Presenti ad Orciano gran parte dei sindaci e degli amministratori dei comuni coinvolti nel bando. Tanti quelli che ne beneficeranno nel Pesarese, da Tavuglia alla strada orcianese, passando per Monbaroccio, Mercatale di Sasso Corvaro, Macerata Feltre, San Lorenzo in Campo, Isola del Piano, Carpegna, Montecalvo e Gabicemare. A questi si aggiunge un contributo speciale per valorizzare il sito del monastero di Fonte Avellana. 90 milioni di interventi finanziati dalla Regione Marche con un intervento diretto del proprio bilancio che va ad aiutare le nostre comunità cittadine, migliora la qualità della vita nei nostri territori. Parliamo di strade, di percorsi pedonali, di sicurezza in senso lato di cui c'è tanto bisogno nei nostri territori, di cui hanno tanto bisogno anche i bilanci comunali che non riescono ad affrontare queste tematiche. Questa è stata la scelta della giunta Acquaroli che d'altronde è costituita da 4 ex sindaci su 7, quindi è una giunta che conosce bene le problematiche dei territori. A questo si aggiunge anche un sostegno alle province per l'accessibilità di luoghi culturali che sono emblema della nostra Regione. Uno di questi emblemi, di queste bandiere è sicuramente il monastero di Fonte Avellana che riceverà un contributo di 400 mila Euro della Regione a cui si aggiungerà una compartecipazione della provincia perché questo luogo diventi veramente fruibile al turismo religioso e al turismo che accede a questa nostra montagna, il Monte Catria, che ricordiamo è la più alta montagna che separa l'Umbria e le Marche nel territorio della provincia di Peserurbino e dove si dice abbia soggiornato Dante, mi piace ricordare, è arrivato anche Giovanni Paolo II nel millenario della fondazione di quel eremo. Quindi interventi molto importanti che hanno attivato in questi 30 mesi, poco più di 30 mesi della giunta Acquaroli, investimenti sul territorio per 120 milioni di Euro. Questo significa poi indirettamente anche sostenere l'economia di questi territori con tanti lavori pubblici messi in moto e messi a terra dalla giunta regionale del Presidente Acquaroli.